Nuovo appuntamento magico quello di domani 24 febbraio 2018 di C'è posta per te il programma condotto da Maria De Filippi che vede impegnata la donna in questione nel presentarlo in maniera davvero molto buona e ti ricordo che domani in questo appuntamento definito anche su internet come imperdibile ci saranno come ospiti speciali il bravissimo e simpatico Francesco Totti e la simpatica e bellissima Giorgia cantante di grande talento il grande campione della magica che adesso ovviamente è andato tra virgolette in pensione ma non del tutto essendo lui attuale dirigente sportivo ed anche la bella Giorgia talento della musica italiana per eccellenza interverranno all'interno del programma e ovviamente prenderanno parte per raccontare una storia di persone che ovviamente ci sarà ad essere narrata ovviamente tutto grazie alla guida di Maria De Filippi che si occuperà di parlarci di ciascuna storia che viene ad essere raccontata sono convinto che il pubblico televisivo di Canale 5 rimarrà letteralmente incantato dinanzi alla bellezza e alla bravura di Francesco Totti da una parte dall'altra invece rimarrà incantato dalla bravura dalla simpatia e dalla chiamiamola capacità talentuosa di Giorgia entrambi dunque saranno presenti la posta ai destinatari la consegnerà tra gli altri anche una nuova postina il cui nome è Chiara Carcano o Carcano che dir si voglia e chiedo scusa nel caso avessi errato la pronuncia del suo cognome che ovviamente si va ad affiancare al simpaticissimo Maurizio al buon Marcello e al famoso e fantastico Gianfranco storici postini di C'è posta per te ti ringrazio per l'ascolto esimio utente o esimia utente di Youtube iscriviti mi raccomando a questo canale commenta e al prossimo video da Leandro Arias Narratore Italiano